Si conclude la maratona di solidarietà invernale a favore del Teleton Arezzo. Un'importante raccolta fondi è stata portata avanti anche dai mercatini di Natale in Piazza Grande che si è conclusa con la consegna del simbolico mega segno nelle mani del coordinatore a retino di Teleton Lorenzo Barbaghi. Nel periodo natalizio dovremmo superare, grazie appunto all'apporto della ConfCommercio e dei suoi negozi, oltre 15.000 euro, compresi i nostri banchini. I mercatini di Natale hanno raccolto oltre 4.000 euro. Senza ConfCommercio quest'anno non avremmo toccato quelli che sono stati i Guinness degli incassi di questa campagna di Natale, ma soprattutto anche alla buona volontà di tutti coloro che hanno esercitato e la loro attività che esercitano ancora in Piazza Grande quello che è il punto del discorso delle mercatini tirolesi. L'abbiamo fatto con compassione, mi sembra che i collaboratori appunto di Teleton sono soddisfatti e devo in particolare ringraziare tutti coloro che in Piazza Grande, l'organizzazione di Gunter, dei mercatini tirolesi, ma anche i negativi che hanno voluto aderire hanno contribuito a tutto questo assegno che andiamo a firmare che è una piccola goccia, ma il maggior impatto di gocce. Noi continueremo con questa campagna, ormai il nostro sodalizio con Teleton durerà finché loro lo vorranno.